Meno 3 alla due giorni del referendum. Domenica 12 dalle 8 alle 22 e lunedì 13 dalle 7 alle 15 gli elettori della provincia di Lucca saranno infatti chiamati alle urne per esprimere le proprie preferenze riguardo al referendum abrogativo in tema di acqua, energia e giustizia. Iniziamo con il dire che essendo un referendum abrogativo, per abrogare la norma è necessario votare sì e non no come verrebbe da pensare. Ma vediamo insieme di capire di cosa trattano i quattro quesiti referendari. La scheda rossa riguarda la modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Se si vota sì, il servizio idrico resterà gestito da enti pubblici. Se si vota no, si chiede che la gestione del servizio idrico venga affidata ad aziende private. La scheda gialla riguarda invece la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Votando sì, le aziende possono far pagare solo le spese di manutenzione degli impianti. Votando no, si consente alle aziende che gestiscono la fornitura di acqua di decidere il prezzo ed ottenere profitti garantiti sulla tariffa. La scheda grigia riguarda poi l'implementazione dell'energia atomica e quindi l'installazione di centrali nucleari in tutta Italia. Se vince il sì, in Italia non verranno costruite centrali elettriche nucleari. Se vince il no, rimane valido il permesso di costruire centrali nucleari sul nostro territorio. Infine, l'ultima scheda quella verde chiaro è sul legittimo impedimento. Se vince il sì, il legittimo impedimento viene cancellato. I cittadini sono tutti uguali davanti alla legge. Se vince il no, il legittimo impedimento rimane invariato. Premier e ministri possono invocarlo. Ricordiamo ai lettori che affinché il referendum sia considerato valido è necessario che si recchino alle urne almeno il 50% più 1 degli aventi diritti. Inoltre, dato che le schede elettorali hanno le caratteristiche della carta carbone, al fine di non rendere nulli i propri voti, è necessario che l'elettore non sovrapponga le schede mentre sta crociando la casella.